Fai un bel sorriso, bambina? Hai ripreso tutto? Ecco, questo preciso momento in cui vi guardo mente capita anche se a volte mi andate a puttare il mio lavoro, mi fa godere, cazzo. C'è questo che fate? Fare dei video mentre la gente muore? Sono film horror. E' chiara? Che li avete fatto? No, 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 niente spoiler. Cosa? Quindi io dovrei orire nel film di uno sfigato dove i cattivi si chiamano Osso, Mastrosso e Caranosso? Caranosso si chiama, non è difficile, cazzo. È uno dei padri fondatori della mafia e tu dovresti saperlo. E io l'ho fatto diventare un nuovo Fred, un nuovo Gesù, un nuovo Faccia di Cuoio, sono un genio, cazzo. Ma non sei un genio, sei solo un mafioso. E chi veglia della mafia per fare film horror? Il tuo film fa schifo. È solo la scopiazzatura di tanti altri film. Quelli come te stanno sempre a criticare. Solo commedie del cazzo e film di youtuber. In Italia nessuno vuole aver paura. È entrata al cinema. Oddio, che schifo, che paura. Però in televisione, dalla mattina alla sera non c'è nient'altro che la morte. E vi piace. Vi piace la studentessa che fa pezzi l'inquilina. Il marito che pugnala la moglie e la madre che strangola il figlio. Vende più della cocaina. E poi ti chiedi che cazzo ci stiamo noi a fare qua. Questo l'avete voluto voi. Questi sono i contenuti originali più richiesti. È il futuro. Non è il mio. Vedremo.